19 febbraio 1997. Muore Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1989. Attraverso il cosiddetto socialismo con caratteristiche cinesi è stato il fautore dell'apertura della Cina maoista a teorie economiche più liberali e di mercato e di un riavvicinamento al mondo occidentale. Xiaoping viene anche ricordato però per il pugno di ferro con il quale reprime le proteste studentesche a piazza Tiananmen nel 1989.